venerdì 5 gennaio buongiorno e ben ritrovati puntuali come sempre ogni mattina per la nostra rassegna stampa il nostro consueto appuntamento con le prime pagine anche oggi andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani andiamo a dare un'occhiata ai titoli in primo piano per scoprire quali sono gli argomenti principali di questa giornata di questo venerdì cominciamo subito il nostro giro lo facciamo partendo dal quotidiano la sicilia una ricca prima pagina anche questa mattina vedete tanti argomenti ecco tra le altre cose si parla anche dell'influenza l'incubo questo il titolo due morti in ospedale nel catanese fanno scattare l'allarme per l'influenza parla il sindaco di valverde che dice non è la suina e poi ampio spazio stamane su tutti i quotidiani lo vedremo tra poco alle parole alle dichiarazioni di ieri di giorgia meloni nessuno mi può ricattare questo ha detto la premier durante una lunga conferenza stampa con noi gli affaristi se la passano male sulle scelte decido io e sto valutando di candidarmi alle europee la manovra per le nuove spese l'esecutivo spera nella riforma fiscale e nel calo dei tassi bce caso verdini salvini non ci sta e sbotta adesso partiranno le querele ha detto il vice premier guerra dell'acqua tregua armata schifani stop il commissario la gestione del servizio idrico a catania e poi proposta di itamaio a lars maxi stor nei centri storici così città rivitalizzate e favoriti lavoro e turismo 40 anni fa invece l'omicidio di fava la profezia del giornalista sul quotidiano la sicilia nel lontano 1978 mafia dei poveracci e dei dominaddio questo diceva fava premio giornalistico a francesco l'alicata continuare a lottare per questa terra in taglio alto fondi destinati ai borghi turistici la sicilia fallan plain con 27 aggregazioni in corsa e poi consueto giro delle città partendo da catania sul volo malta catania arrestati due passeggeri spari per vendetta invece i racconti del pentito si parla chiaramente di cronaca militello piano di riequilibrio per evitare il dissesto e poi a taormina l'elipista è diventata un campo da ok restiamo nell'isola lo facciamo con la prima pagina dell'edizione odierna del giornale di sicilia che si parla di un'emergenza a palermo ovvero l'emergenza rifiuti una città sempre più sporca la disfida che sporca palermo titola il giornale di sicilia i sindacati della rap replicano alle critiche del sindaco lagalla sospendendo tutti gli straordinari la raccolta che già era inefficiente va a rotoli e la città affoga sempre più nell'immondizia e ovviamente arrivano le proteste dei palermitani ancora una raffica di segnalazioni residenti chiaramente esasperati la finanziaria l'ars altri sì ai grandi negozi in centro mentre da oggi al via i saldi affari sì ma anche polemiche e la vedete giorgia meloni bacchettate a pozzolo e ovviamente agli avversari mentre si salvano in questo caso i tagli si salvano dai tagli le scuole florio e cascino è stato rivisto il piano dunque aggiornata la mappa dei cambiamenti in sicilia con turano che dice abbiamo fatto il possibile svolta invece nel delitto celesia palermo svolta possibile da un video sarebbe coinvolto anche un altro uomo e poi stangata per la rc auto si parla di aumenti del 7,8 per cento con enna che è invece la città meno cara in attaglio alto il musical sui queen sbarca in sicilia previste tre tappe nell'isola mentre 40 anni fa veniva ucciso pippo fava cronista scomodo oggi tante iniziative in ricordo del giornalista la situazione in medio oriente una vera e propria polveriera dopo beirut e damasco attacchi anche a bagdad mentre l'isis rivendica l'attentato in iran proseguiamo con la nostra rassegna vediamo cosa ci propone stamane in prima pagina l'edizione palermitana del quotidiano la repubblica il turismo prigioniero dell'algoritmo che penalizza la sicilia catania batte palermo nel derby dei visitatori grazie all'intesa con ryaner in 18.000 hanno chiesto lo sconto della regione che ora cerca altri fondi il costo dei biglietti aerei però vedete penalizza condiziona le presenze in sicilia questa è una questione delicata del caro voli che certamente non ha favorito le persone insomma desiderose di visitare la sicilia ma anche chi dalla sicilia vuole poi eventualmente partire rap stop ai doppi turni contro il diktat di la galla e dunque è emergenza rifiuti a palermo palermo che sta diciamo facendo i condi con un'altra polemica relativa in questo caso al concerto di elodi la notte di capodanno con il centrodestra vedete che si sfalda proprio a causa di questa vicenda il caso trapani dopo l'emergenza acqua adesso è allarme legionella mentre per quanto riguarda i migranti a rosolini finisce l'incubo 150 minori fuori dal tendone e poi la sfida di fava spiegata alle nuove generazioni in questo caso in un libro si parla anche di sport intervista a marco baldineti la mia vita in piscina farò grande il telemar queste le sue parole andiamo avanti con la rassegna stampa ci spostiamo adesso sulla prima pagina della corriere della sera le parole di giorgia meloni in primissimo piano irresponsabili tra noi queste le parole in conferenza stampa di giorgia meloni si al confronto in tv con ellis line mentre le opposizioni replicano parlando di bugie prese in giro da parte della presidente del consiglio pozzolo va sospeso ha detto giorgia meloni meloni che evoca manovre oscure e poi difende anche matteo salvini dalla corriere della sera al quotidiano la stampa vedete giorgia meloni si prende un'altra prima pagina via pozzolo difendo matteo salvini tre ore e mezza di conferenza stampa la premier scarica il deputato di vercelli e poi dice sì a una eventuale sfida un confronto in tv con la leader del pd ellis line europee pronte a candidarmi ha dichiarato ancora meloni mentre al proposito di pozzolo parla l'uomo ferito a biella mi ha sparato da un metro queste le sue parole il grande freddo titola poi la stampa meno 43 clima impazzito in svezia temperature polari da record mentre qui da noi siamo ancora le prese con temperature decisamente poco poco invernali proseguiamo con la nostra rassegna vediamo cosa ci propone il quotidiano il messaggero anche qui le parole di giorgia meloni sotto i riflettori do io le carte no ai condizionamenti questo ha detto la premier durante tre ore di conferenza mattarella non resterà inascoltato sono stanca delle accuse di familismo e nel partito basta irresponsabili insomma giorgia meloni ne ha per tutti anche vedete per gli esponenti di fratelli d'italia la strage in iran rivendicazione dell'isis nostri kamikaze i terroristi l'obiettivo erano gli sciiti stati uniti diplomazia gaza e bombe su bagdad e poi si parla anche di diego armando maradona evasore processo da rifare a tre anni dalla morte del campionissimo la cassazione accoglie il ricorso degli eredi lasciamo il messaggero siamo sul quotidiano il giornale ampio spazio alle parole di meloni io sono giorgia atto secondo conferenza fiume della premier e poi varie dichiarazioni vari argomenti affrontati dalla presidente pozzolo sospeso e poi striglia la classe dirigente del partito serve più responsabilità e ancora in questo paese qualcuno pensa di poter dare le carte ma io non sono una che si spaventa sul caso anas blinda salvini non credo che il ministro debba andare a riferire in aula attacchi al governo colpisce la sfrontatezza di degni e il grave silenzio ed è grave il silenzio della sinistra questo ha dichiarato tra le altre cose giorgia meloni l'omelia anti armi di saviano scorda gli spari di gomorra scrive il giornale che parla di saviano come un esempio negativo e ancora politicamente corretto in tilt se il corriere si indigna su tutto ma scrive del mastro iettatore giorgia meloni ha parlato anche di degni della corte dei conti a proposito di degni atti al procuratore generale il giudice contro l'italia finalmente rischia grosso lasciamo anche il giornale questa è la prima pagina del fatto quotidiano niente questione morale giorgia leggi queste carte governo e affari giorgia meloni scarica pozzolo per salvare salvini gli audio di verdini e il colpo grosso prima agivamo per forza italia o per ala ora è tutto per noi appalti anas soffiate dall'indagato confermato da matteo insomma vedete il fatto quotidiano torna sul cosiddetto caso verdini andiamo avanti lasciamo il fatto questa è la prima pagina del tempo che apre con la conferenza stampa di fine anno di giorgia meloni una giorgia che fa sbavare la sinistra meloni dura con l'opposizione finito il mondo in cui loro avevano più diritti degli altri sulla rai smonta le accuse stiamo solo riequilibrando occupavano il 70 per cento dei ruoli e poi spiega il lavoro del governo su economia sicurezza premierato e balneari una giorgia meloni vedete che non si è sottratta a una vera e propria maratona di tre ore e venti dunque giorgia meloni ha risposto a tante domande tante curiosità da parte dei giornalisti in questa conferenza stampa di fine 2023 o di inizio 2024 se preferite notizia da roma arriva il pronto intervento ama nel nuovo contratto di servizio una task force per rimuovere rifiuti entro quattro ore dal tempo alla prima pagina del quotidiano la nazione che lo ricordiamo fino all'otto gennaio tutti i giorni proporrà delle interviste a grandi personaggi e il turno oggi dell'ex motociclista loris capirossi la vita non è una corsa questo ha dichiarato il campione di motociclismo che si riferisce soprattutto ai giovani sui rischi che si corrono in strada troppi incidenti impariamo a essere prudenti questo è il pensiero condivisibile assolutamente condivisibile di loris capirossi e poi la prima pagina di libero vedete giorgia meloni si prende praticamente quasi tutto lo spazio lei è tornata la conferenza del premier giorgia silura pozzolo disarma l'opposizione e avvisa non tutti capiscono la responsabilità che abbiamo queste le parole di giorgia meloni e poi vedete altre sezioni dedicate proprio alla conferenza stampa di ieri altra notizia in prima pagina sul libero si riaccende la rissa sull'eredità degli agnelli rivincita di margherita sugli elcan in tribunale parliamo di sport ieri si è concluso questo turno di coppa italia con una netta vittoria da parte della juventus che batte per 6 a 1 la salernitana e passa così al turno successivo della coppa italia signora 6 tremenda titola la gazzetta dello sport una juve a balanga con i suoi giovani salernitana subito avanti poi però si scatenano i bebi di allegri miretti cambiaso hildiz e wea in gol pure rugani insomma una juve che fa ben sperare i suoi tifosi per il futuro e intanto approda ai quarti di coppa italia dove affronterà il frosinone l'inter invece pazza di turam gol e assist oltre ad atteggiamento e simpatia così marcus ha incantato tutti e domani aspetta il gemello lautaro dunque lautaro martinez dovrebbe tornare a disposizione di inzaghi dopo aver saltato qualche partita per infortunio tutto sport celebra la juventus di allegri ragazzi che juve questo il titolo i giovani danno spettacolo salernitana travolta e allegri passa ai quarti miretti e cambiaso avviano la rimonta dopo l'errore iniziale di gatti hildiz propizia l'autorete di bron e poi incanta con un'altra prodezza da fenomeno wea segna un gollazzo e lo stadium vedete va in delirio insomma tifosi sempre più pazzi di questa juve così giovane e così promettente chiudiamo con il corriere dello sport che oltre alla juve se i gol e ai quarti mago hildiz si sofferma invece sulla situazione in casa roma una vera e propria rivoluzione caccia al nuovo direttore sportivo ma l'attesa è per jose murigno pinto lascia quindi va via subito adesso fredkin decide sul futuro di jose murigno dunque vedremo se lo special one resterà sulla panchina giallorossa o se lascerà magari il calcio italiano ecco per altre destinazioni al termine di questa stagione noi intanto ci fermiamo qui chiudiamo questa rassegna stampa odierna ovviamente l'informazione non si ferma sui nostri canali a breve tutte le edizioni di spazio notizia per aggiornarvi lungo questo venerdì e allora anche oggi come sempre l'invito non cambia rimanete con noi a più tardi